L'idea per l'episodio di oggi mi è venuta guardando una serie di tv molto interessante su Netflix Si chiamava I geni del mondo moderno, mi sembra, sì, in inglese Genius of modern world E l'ho trovata molto 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 bella, acculturante Perché sto dicendo questo? Innanzitutto qual è la mia riflessione? Dipensando un po' all'aspetto della scuola In particolare il rapporto che c'è tra l'insegnamento di personaggi pilastri della nostra società O comunque che hanno contribuito in maniera significativa al fondamento del mondo d'oggi contemporaneo E diciamo poi la nostra percezione e quindi di conseguenza come vengono studiati da noi Questo rapporto mi ha fatto molto pensare perché fino a poco tempo fa insomma ero molto diluttante Allo studio dei vari classici o comunque delle persone di spicco però del passato E questo secondo me è dovuto assolutamente da come sono stati presentati e da come sono stato istruito nella scuola Quindi non dall'alimentare ma partendo dalle medie e poi dal liceo È stata un po' un'istruzione forzata Cioè ma questo insomma penso di approfondire un altro episodio in cui parlerò un po' del mio punto di vista sull'istruzione italiana Di base penso che comunque in generale su tutta l'Italia ci sia questo problema in cui la maggior parte dei giovani non trovano interessante studiare magari Freud, Nietzsche, Marx e via discorrendo Non tanto perché magari loro non sono interessati a quel momento Quindi lasciando il fattore d'età che è ovvio che uno di 16 anni ecco magari a leggere Nietzsche non trovi molto interessante in sé per sé Però io vorrei più soffermare proprio sul seme che viene lasciato a questi ragazzi come me Che corrisponde al fatto di l'odio, la repulsione proprio Quindi un conto è diciamo far studiare in maniera superficiale o comunque i fondamenti di questi personaggi Quindi senza caricare troppo di peso i ragazzi Per diciamo lasciare un piccolo semino che in futuro poi potrà crescere se il ragazzo è interessato e portato a quella materia Questo secondo me è importante quindi penso che invece ora si punti molto a far ingogliare di forza tutti questi mattoni, questi libri, questi argomenti un po' pesanti per uno di questa età Giusto per arrivare a concludere il programma a fine anno e poi insomma si cavoli Non si pensa a lungo termine, non si pensa a far veramente far appassionare e cercare di dare possibilità al ragazzo di prendere diciamo punti Gli spunti più importanti di quel personaggio per poter acculturare, dare più cultura E dare insomma aprire un po' più la mente a questi giovani Non come me E questo come si fa? Come ho detto prima secondo me non è Insomma non bisognerebbe più focalizzarsi solo su completare il programma il prima possibile a fine anno Diciamo facendo ingogliare questi libri Ma cercare di anche forse in maniera superficiale raccontare la loro vita, le loro opere e come hanno contribuito veramente a questo mondo Senza però andare per forza troppo nel pesante o nel dettaglio Proprio perché bisognerebbe dare la libertà poi ragazzi di approfondire cosa veramente gli interessa Cioè sapere a tutto in quell'età molte cose in maniera generi o comunque basilare E poi piano piano che cresce permettergli di insomma già sapere cosa gli piace e cosa non gli piace E quindi dargli modo poi di approfondire cosa veramente gli interessa in quel periodo della sua vita Riguardo a me trovo questo documentario molto interessante Cioè allora fino ad un anno fa io odiavo insomma questi classici, questi autori Insomma penso che non fosse assolutamente vitale e non lo è saperlo insomma non è che diciamo per sopravvivere serve Semplicemente è qualcosa in più cioè per chi vuole non so ragionare di più Oppure fare delle riflessioni un po' più importanti sulla vita, su quello che gli accade Quindi ripeto non è fondamentale per sopravvivere la parola fondamentale è sopravvivere Quindi quando insomma cominci a maturare e avere un po' più di esperienza Insomma la tua prima necessità non è sopravvivere magari stai in cerca di qualcosa Ecco che ti faccia più riflettere sulla vita che ti dimostri nuove prospettive Per questo insomma è arrivato proprio al momento giusto Grazie a Netflix ecco l'opportunità di studiare Nice, Mars e Freud Per vi ho detto in maniera un po' più interessante e approfondita Mi sono visto questa mini serie, sono tre episodi di uno, uno da ciascuno E il bello che secondo me è importante è che un motivo aggiunto Forse è il motivo principale per cui sto facendo questo episodio del mio podcast Perché dopo aver visto quegli episodi non è che è finita lì la cosa Cioè non è che è tipo un film che la maggior parte dei film finisce lì Quindi tipo piacevo non piacere, magari ci va qualche riflessione però E fino a se stesso la maggior parte delle volte Questa serie invece secondo me era proprio quello che avrebbe dovuto fare la scuola Che con me non c'è riuscita Ovvero di installarmi un semino di curiosità E quindi dopo aver visto la serie per esempio sono andato su Amazon E mi sono messo aggiunta alla lista dei desideri Il libro di Nice e Freud ho già l'avuto letto Due libri di Nice Perché sono rimasto piacevolmente incuriosito di cosa propone Ovviamente non è che è bastato un'ora di questo episodio per sapere Nice Però è stato il minimo necessario per potermi farmi capire Se mi può interessare un approfondimento su di lui E quindi ho detto perché no compriamo un libro Quindi lo compro la 1 settembre-ottobre perché ho ancora una scaletta di libri E quindi insomma in futuro lo leggerò E tutto questo non sarebbe successo se non fosse stato per questa serie di buo Quindi questo episodio sto un po' giocando fra lo scuola e Netflix E non è la prima volta che questo succede Insomma Netflix mi ha veramente dato molto in queste serie di buo Io raramente guardo serie di buo per intrattenimento su Netflix E intrattenimento dico veramente serie di buo O quelle classiche per insomma intrattenere e basta Quando apro Netflix e per fortuna non lo apro spesso Perché è molto facile cadere in questo spirale Quando lo apro però è perché magari voglio vedere qualcosa Che mi dia un po' di cultura Quindi che sia il documentario magari ecco sui vegani Sul governo, sui soldi, sul capitalismo Ecco non è la parola capitalismo Oppure magari su queste figure Insomma che hanno fatto la storia E cose insomma molto simili a un documentario E penso che Netflix sia proprio il mezzo Il tremide che possa far comunicare ai giovani A ragazzi della mia età Tematico un po' più da documentare alla National Geographic O cose del genere tipo a Piero Angela Che sono più di volte verso un pubblico maturo Cinquantenni, quarantenni così Ecco quindi è difficile magari tra un ragazzo della mia età Che si guarda documentari su Discovery Channel Oppure si guarda la sera Piero Angela Mentre Netflix diciamo Ricompatta un po' il contenuto Per renderlo un po' più fruibile Alle persone e ai ragazzi della mia età Quindi trovano un giusto compromesso Sia per il formato sia proprio per il mezzo che è Netflix Questo penso che sia geniale E per questo insomma Sei riuscito a farmi appassionare a Nietzsche Cioè a 22 anni leggere a Nietzsche O sei fuori di testa O diciamo ecco Hai visto la serie di Bush Netflix Per scherzare E questo mi ha portato molto a riflettere insomma Su quanto sia Tra l'altro è fallimentare la scuola Perché Non ha obiettivi per il ragazzo Cioè non è che Alla fine la scuola Il suo obiettivo magari è Cosa per fare le tabelline L'equazione Le potenze I sistemi Però paradossalmente Non insegna il ragazzo ecco A gestire le motività Che cos'è l'empatia Come diciamo Come crescere Come imparare a conoscere se stessi Come interessarsi a un argomento E questa è una cosa paradossale In minore importanza Proprio non insegna Non riesci a far appassionare i ragazzi A quello che si studia A meno che uno non ha una passione Lì per lì Difficile il ragazzo Studi veramente per piacere Mentre Secondo me Dovrebbe essere L'obiettivo principale Della scuola Quindi per questo Direi che sia un po' fallimentare La scuola Ora non so quella estera Io parlo di quella italiana Ovviamente E Come si potrebbe risolvere Per chiudere l'episodio È un po' difficile Ovviamente Non è che serve Simone Ferrando Che dia la soluzione Alla formula magica Quello che posso dare Sono spunti E diciamo Obiettivi che si dovrebbe porre La scuola In questo Relativo a questo argomento Sicuramente è quello di Capire come comunicare con i ragazzi Perché I professori Maggior parte delle volte I ragazzi sono su due piani diversi Sono due mondi diversi Come il maschio e la femmina Sono che molte volte Però non riescono a comunicare Quindi da una parte Si trova il professore Che Non sa comunicare con i ragazzi Questo la maggior parte delle volte Non sempre E i ragazzi Il professore non sa comunicare con i ragazzi E la cosa che pensa maggiormente È come Diciamo Finire il programma in tempo Quindi fare i più argomenti possibili E fare quelli Mentre il ragazzo Non capisce perché Deve studiare quella cosa Cioè Badalmente Sono Mi sono appassionato Appassionato a Questa serie V Secondo me Perché c'era una domanda latente Cioè magari Come interpretare la realtà Come rispondere a certe domande Che mi giravano in testa In maniera In concia Latente appunto Ecco E questo secondo me si spiega Proprio perché Dopo aver visto queste Queste serie V Sono avuto un sacco di Poche risposte E molto più domande Quindi Insomma Sono rimasto incuriosito Vabbè Questo è ovvio Però ecco È come se avessi sentito Che Fossi La cosa giusta Al momento giusto Quindi da una parte Può essere vero Dall'altra parte Però vuol dire che C'era Un'offerta C'è la serie V Ma c'era anche una domanda Ok Che quindi si è andata Da incontrare In questo caso La mia domanda Era la domanda D'atente Di Conoscere Un certo tipo Di cose Un certo tipo Di domande E vabbè Questo insomma È superficiale Secondo me La scuola Riguarda Questo A quest'ultimo discorso Il compito Serve proprio Di dare Più input Possibile Al ragazzo Portarlo A Creare Più domande Latenti Possibili Cosicché Da grande Poi Gli succederà Questo effetto Ho vissuto io Di vedere una serie Di V E pensare Cacchio ma Quello che sto pensando Negli ultimi giorni Nell'ultimo periodo O proprio Queste domande È proprio Arrivata al momento giusto Secondo me Questo è proprio Lo scatto Quando proprio Ti viene un'idea Che stai magari Pensando a una cosa All'ultimo Ecco Ti viene la risposta Non c'è quella bella sensazione Ecco Secondo me Il compito a scuola È fornire Più input Possibili Più stimoli Possibili Al ragazzo Quindi ripeto Secondo me Sarebbe molto più Positivo Per un ragazzo Studiare in maniera A volte Superficiale Ma secondo me Anche per come Vengono Insegnate le cose Anche magari Se si va Col programma Diciamo In maniera approfondita Poi Alla fine Quello che viene Preso Dal ragazzo È sempre Poco Quindi secondo me Anche questo è un po' Relativo Questa superficialità Che sto proponendo Rispetto All'approfondimento Che Viene fornito Oggigiorno Però Ecco Dare più stimoli Possibili Rischiando di essere Anche un po' Superficiali Però Facendoli capire L'essenza Il concetto Il succo Del discorso Cioè È inutile Secondo me Fargli Insegnare La frase Le classiche Fasi Di Nietzsche Oppure Di Marx O Che ne so Ora non mi vengono in mente Cioè Far imparare a memoria Questi Gli argomenti principali O Le frasi che hanno detto Senza però Fargli capire Perché innanzitutto Sono arrivati a quel punto Cioè A cosa Qual è il periodo storico Cioè Perché una persona Comincia a produrre E a pensare In quel modo Ovviamente Maggiormente È dovuto a Degli stimoli Esterni Che l'hanno portato Quindi Fargli dare Una Una Cognizione Una causa Cognizione Insomma Una causa Effetto Di quel periodo E poi Successivamente Fargli capire Cosa veramente Voleva dire Mi sembra che Reins Diceva Insomma Che se Non lo sai Spiegare A un bambino Di 5 anni Così Di Un bambino piccolo L'argomento A parole Due Vuol dire Che non ha capito Veramente Quell'argomento Quindi Distaccarsi Un po' Dal libro In sé Per sé Tutto quello C'è scritto Ma Capire Di base Cosa voleva Trasmettere L'autore E Cosa L'ha portato Quindi La causa Effetto Secondo me Molto importante Perché Dà una Connezione Di Causa A A quello Che si sta Studiando Queste Secondo me Sono un po' Le tematiche Principali Ok Ora non voglio dire Sommente La matematica Non è importante Cioè Io vengo Da liceo Scientifico Quindi L'ho già vissuto E secondo me È ora Dire un po' La mia Ad acqua e fiori L'acqua di rose Scusate La mia Senza un minimo Di contesto Questo è un discorso Molto complicato Che vorrei affrontare Su un altro episodio Molto in futuro Però Di base Secondo me Ecco Bisogna un po' Riflettere su questa cosa Su Paralossalmente Come sia Molto più istruttivo Tra virgolette O come Riesca A A Trasmetterci Le cose In Netflix Rispetto magari A una scuola Lascio proprio Così a pensare Vi ringrazio Per l'ascolto E noi ci vediamo Al prossimo episodio Così a pensare